Turismo integrato per lo sviluppo dell'agricoltura e la valorizzazione delle eccellenze nelle aree interne è questa la sfida di Giovanni Antonio Puopolo, candidato al Consiglio regionale della Campania. Occorre creare una prospettiva diversa e un sostegno serio alle imprese, rivalutazione della cucina mediterranea, lavoro, non più assistenzialismo e soprattutto fondi di investimento non restituibili. Noi abbiamo una volontà per le aree interne, per l'Avellinese, per dare una speranza, una prospettiva a una provincia che sta soffrendo, stava soffrendo prima, sta soffrendo adesso sia per problemi di salute perché abbiamo qualche problema di salute ancora in campo e sia per problemi successivi che saranno quelli economici e finanziari. Noi dobbiamo trovare un modo per unirci, per dare forza a questo territorio e portare avanti le istanze del territorio, le istanze dei cittadini, le istanze che necessariamente devono essere recepiti dalla regione Campania che per un periodo di tempo è stata sorda. Noi cercheremo di creare microimprese proprio attraverso l'agricoltura, i prodotti tipici locali che sono la punta di forza, la punta straordinaria di questo territorio dell'Avellinese dove abbiamo delle eccellenze come il vino, l'olio di ravece e così via. Queste cose sono una miniera d'oro che bisogna mettere in vetrina e bisogna esporla al mondo intero.